Eccellenza, che cosa può fare la società in ottica di una migliore integrazione, anche a fronte di tutto ciò che le cronache ci stanno dicendo? Dobbiamo sicuramente ricorrere a una specie, direi, di rivoluzione culturale. Dobbiamo cambiare modelli mentali, perché da questi modelli mentali, ancorati a valori che siano espressione di un umanesimo, che io amo chiamare Mediterraneo e quindi impregnato anche di cristianesimo, siano capaci poi di proporre modelli concreti di comportamenti virtuosi. Oggi noi siamo piuttosto inclini a pensare l'immigrazione come una grossa sciagura, una iattura che sta affliggendo l'Italia. È come se fosse un brutto sogno, dal quale speriamo di svegliarci quanto prima. Le migrazioni sono un fatto strutturale e quindi da questo punto di vista, se non cambiamo atteggiamento mentale, non troveremo neanche le progettualità per affrontare seriamente questa che non è più un'emergenza, ma è un dato di fatto con i quali fare i conti. Tra l'altro, un altro episodio, c'è stato, insomma, nelle ultime ore la strage dei cristiani uccisi da alcuni musulmani. Come possiamo realmente porre rimedio a queste situazioni? Come può l'Europa, lo Stato fare qualcosa? Indubbiamente questa è l'espressione di un clima degradato che si sta creando in giro, dove le religioni vengono strumentalizzate anche per giustificare fenomeni che non hanno niente a che spartire con le religioni. Dobbiamo pensare che il racconto è stato fatto da persone che hanno vissuto in prima persona ed emotivamente partecipi un momento di gravissima difficoltà, che probabilmente non si trattava di musulmani che volevano buttare a mare i cristiani, ma quanto piuttosto, in una situazione di pericolo, cercare di salvare se stessi. Poi, tra l'altro, il mondo musulmano, che noi siamo così piuttosto inclini a pensare molto omogeneo, omogeneo non lo è, per cui anche tra loro stessi i musulmani sono molto divisi, per non dire che probabilmente qualcuno poteva anche essersi spacciato per cristiano senza esserlo, al fine di predisporsi anche un'accoglienza o un'accettazione al momento dell'arrivo che gli favorisse un po' la presenza. Sono certamente episodi di altissima drammaticità che ci dicono quanto bisogno ci sia di umanità e di umanesimo. Esasperare le situazioni e buttarle sulla guerra di religione non giova a nessuno, però.